...della natura, l'azzurro come il cielo, giallo come il sole e verde come il prato. C'è un chiaro riferimento anche all'uomo di oggi, che non si meraviglia più della bellezza, della natura e di tutte le cose che ci circondano. E non si accorge neanche che respirare è un gesto sì naturale, ma anche spiegabile. Signori, i bambini della classe prima si seguiranno con la canzone dei Modà come un pittore. Brava! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.